Oh guardate, buongiorno ragazzi, guardate dove siamo oggi. Al lago del Turano, Castel di Dora, aria di sosta. Salutate? Silvana salutate? Saluta Franci! Guardate che bello. La giornata non è proprio perfetta però, è bella dai, non tira neanche un filo di vento. Sì, no, non ti stai a fare. Dai, su. Stai a fare. Sì, però, non ti stai a fare. Sì, però, non ti stai a fare. Sì, però, non ti stai a fare. Siamo al lago, guarda che spettacolo, guarda. I tuffi, il Natalia, la piattaforma ha fatto i tuffi. Te l'immagini tu. E' il lupen. Davvero? E' il lupen. Zaza che ti dicono, Zaza? Ma oggi ne stanno lavorando. Eccoci sistemati. La tenda per... L'aria. Che ci maniamo oggi a pranzo, Marce? Per puccevi al tartufo. E andiamo? Stai bene qua, Franci? Ah, che dice la signora, la signora? Per fare caffè. Non ti lamenta che non ti porto mai il pranzo fuori, eh? Stai mandandolo a fare le stesse cose che faccio a casa. Ma stai fuori, però. Oh, questo cosa lo sai fare? Sa fare le cose di Zianna. Espressioni di Zianna. Te lo mando e te lo... Mettelo su Facebook. Guardate che bello. Ore 16. Piano di camper. Guardate che bei camper. Però... il nostro principe fa sempre la sua porca figura, anche nonostante i suoi 34 anni. Guardate che spettacolo. Bello, bello, bello qui, eh? ... 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